Parliamo della situazione amministrativa e politica del capoluogo. Io nella giornata di ieri ho documentato la posizione del parlamentare del Mastro, che fa capo a Fratelli d'Italia, ha sempre espresso lui la volontà di quel partito, era un po' risentito per le affermazioni che stanno uscendo dal gruppo Lega. Lei, sindaco, come si pone rispetto a questa questione? Io posso dire che il commissario della Lega parla per la Lega, giustamente difende interessi del suo partito, del Mastro difende interessi del suo partito. Io appartengo alla Lega, ci mancherebbe, ma sono anche il capo della coalizione e devo avere un occhio per tutta la coalizione. Certamente non rinnego di essere l'uno della Lega, ci mancherebbe altro. Però l'interesse principale per me non può che essere l'interesse del Paese, dei cittadini, della coalizione e poi anche con il partito. Quindi non è che ci sono posizioni differenti, è che ci sono tentativi di ricomporre una situazione che peraltro devo dire che all'interno del Comune è sempre andata avanti grazie alla responsabilità dei consiglieri comunali della Lega, che ringrazio, dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e dell'atteggiamento pacifico e positivo dei consiglieri di Forza Italia e della lista civica che non hanno mai interagito in una battaglia che pare essere più una battaglia tra i segretari politici. Hanno sempre appoggiato l'interesse dell'amministrazione, quindi grazie ai consiglieri. Poi questa cosa dovrebbe finire, rivolgo un appello pubblico veramente a tutti, a fare tutti un piccolo passo indietro, a mettere in evidenza che adesso abbiamo tante cose da fare, c'è bisogno della collaborazione di tutti. Lo ripeto, è stato scritto, è stato detto tante volte che le colpe erano dell'uno dell'altro, non è vero, io ad esempio non ho mai dato le colpe a nessuno se non attribuendo a me stesso come capo dell'amministrazione le responsabilità, non ho mai accusato né uno né l'altro ossessore. Io vorrei veramente continuare una collaborazione con tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto fino adesso perché credo che sia giusto, i cittadini ci hanno dato un mandato e dobbiamo rispettarlo e onorarlo ancora per questi due anni e qualcosa che rimangono. C'è tanto da fare, c'è bisogno di collaborare e anche di iniziare il più presto possibile. Allora, senta, anche a livello regionale il braccio di ferro che è stato tra Lega e Fratelli d'Italia si è risolto, è stato continuato, incontri, dialoghi, ci sono ipotesi? Ma sì, ma il dialogo non è mai mancato, il giorno che manca il dialogo manca l'appoggio all'amministrazione, quindi è lì da vedere. Si tratta di rifinire alcune posizioni, ma quello che conta per tutti, secondo me è portare a termine il programma con il rispetto degli impegni che abbiamo preso verso gli elettori.